Rifondazione Comunista cerca alleati per le prossime elezioni comunali. Con il progetto Città Ribelle, ricalcato su altre esperienze italiane, come la città in comune, il partito della Rifondazione Comunista si appella a movimenti, partiti e cittadini, purché lontani dall'andamento del PD di Renzi. Anche all'Aquila abbiamo proposto, già fatto, più di una riunione per costruire un'alleanza di questo tipo che sappia dare respiro a un'alternativa possibile all'austerite europea e alle politiche di molte amministrazioni schiacciate dall'austerite europea rappresentate in Italia dal PD. Noi auspichiamo di poter collaborare e allearci con le forze a noi vicino, territorio collettivo, sinistra italiana, appello per l'Aquila, per ricalcare l'esperienza di tante città, Napoli su tutte, dove De Magistris governa con la cosiddetta coalizione della Città Ribelle. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di altre forze centrosinistra. Il PD, se il PD esce dal PD, come è stato detto in conferenza stampa, noi saremmo ben lieti di continuare un percorso amministrativo. Però è chiaro che se il PD è il PD di Renzi e di D'Alfonso, per una forza di sinistra, al di là di rifondazione, per una forza di sinistra diventa impraticabile quella strada per i temi classici sui quali ci siamo battuti, infrastrutture. Ambiente, infrastrutture, ricostruzione delle frazioni, questione universitaria e questione morale, saranno i temi che Rifondazione Comunista porterà nella campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco del capoluogo. Per quanto riguarda la figura di Trifoggi, come vi relazionerete con lui? Su questa vicenda della questione morale, Trifoggi è stato un punto di riferimento ed è stato intransigente come vice sindaco. Ci piacerebbe avere Trifoggi come interlocutore in questo calderone. Trifoggi è stato un punto di riferimento ed è stato un punto di riferimento ed è stato un punto di riferimento.